Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video in cui parleremo degli 11 giocatori migliori, secondo me almeno, della Premier League. Non stiamo parlando tipo in classifica, tipo i migliori 10, stiamo parlando per ruolo quali sono i migliori giocatori, secondo me, del campionato. A partire ovviamente col portiere, prima di partire voglio dirvi che molti giocatori che avrei voluto inserire non li posso inserire perché ovviamente posso farci stare solo 11, quindi parleremo anche dei giocatori magari da menzionare, da cui dare un tributo per quelle che possono offrire al mondo del calcio, però senza effettivamente inserirli nella squadra. Quindi man mano che andiamo avanti parleremo anche di loro. A partire con il portiere, ovvero Dean Henderson. Secondo me questo è il portiere che a livello di prestazioni e per quello che ha dato a una squadra del suo livello è praticamente ineguagliabile. Mi spiego. Alisson è un grande portiere, senza ombra di dubbio, però gioca dietro Virgil van Dijk. Gioca con Robertson a sinistra, cioè gioca con una grandissima difesa che sta subendo pochissimi gol e che sta giocando in generale un calcio incredibile. Tutta la squadra sta giocando un calcio incredibile, quindi per quanto Alisson sia un buon portiere, sicuramente un ottimo portiere, personalmente a me impressiona di più vedere un ragazzo giovane come Dean Henderson, che se non sbaglio ha 23 anni, in una squadra come lo Sheffield, che sta facendo una stagione incredibile, per loro essere appena promossi ed essere tra i primi, cosa sono, primi 6-7, è una cosa incredibile. È tutta la stagione che giocano così. Quindi lui che si trova dietro a difensori, che con tutto rispetto non sono Virgil van Dijk, non sono Robertson, insomma, secondo me quello che sta facendo lui è incredibile, quindi mi va di metterlo assolutamente in questa squadra. Sicuramente alcuni di voi si chiederanno perché l'ho fatto, però secondo me è proprio a livello di prestazioni. Non metto favoritismi, perché sì, è un giocatore in prestito alla squadra che ti fu io, però non c'entra questo. È proprio a livello di prestazioni che secondo me si merita assolutamente questo posto. Parlando del terzino sinistro, bisogna per forza nominare Robertson, che è un giocatore che secondo me, nell'ultima stagione e mezzo in particolare, è cresciuto in maniera veramente pazzesca. Stiamo parlando di un giocatore che sia attaccando o che sia difendendo è praticamente perfetto. Poi l'agonismo che mette nelle partite è una cosa che a me personalmente piace da morire a vedere. I calciatori come lui, come Erciro Gramos ad esempio, come Roikin all'epoca, questi sono i calciatori che a me piacciono, quelli che ce la mettono tutta, che si impegnano per la maglia, che sia una maglia che a me faccia schifo, meno vedere un giocatore che si impegna per quella squadra. È sempre una cosa da rispettare ed è sempre una cosa molto molto bella. E Robertson fa proprio questo, poi ripeto, i suoi cross sono una cosa devastante. Difensivamente parlando è molto solido, è veloce, ha grinta, è un giocatore molto completo e per questo io lo inserisco in questi undici. Il difensore centrale che gli metto al suo fianco è Virgil van Dijk ed è un altro difensore, secondo me, a di livelli astronomici. Ballak da poco ha detto che, insomma, non deve affrontare attaccanti forti e più o meno ci sta anche perché in effetti non ci sono Runei, non ci sono Trogba, non ci sono questi tipi di giocatori che fisicamente sono dei mostri perché anche Henry Kane, che è un giocatore potente, non è, secondo me, ai livelli di quelli lì. Quindi ci sta anche dire che magari il campionato non è più il livello di quello di una volta, però stiamo parlando di un difensore che ha totalmente cambiato quello che è il Liverpool perché prima che arrivasse lui, insomma, era una squadra capace di fare 5-6 gol a partita ma di subirne altrettanti. Quindi, cioè, battevano magari una squadra forte, magari mettiamo il caso l'Arsenal o il Chelsea o il City, cioè li distruggevano magari 3-0, poi nella partita successiva beccavano la squadra neopromossa e perdevano 3-4-0. Era una cosa che si vedeva abbastanza spesso. Non a caso Jurgen Klopp, la prima stagione, mi sa che sono arrivati ottavi, quindi ha fatto anche una partenza molto difficile Klopp, però da quando è arrivato Van Dijk è totalmente cambiata la squadra. È lui il vero punto di forza della squadra. Per quanto sia forte l'attacco, il centrocampo è così così, ma lui come roccia proprio davanti a tutti come elemento di riferimento della squadra è un giocatore incredibile e io francamente lo considero probabilmente il miglior difensore al mondo in questo momento. Magari ci sono altri che possono superarlo per tipo Sergio Ramos, magari per quello che dà proprio alla squadra, al club, come figura anche fuori dal calcio, però secondo me Van Dijk è un difensore totalmente unico, quindi va assolutamente in questa squadra. E l'altro difensore centrale è un altro giocatore che secondo me, quando la sua squadra lo perde, cambia totalmente il gioco sostanzialmente, perché stiamo parlando di Laporte, ok? Se ci fate caso, ok, il City ha avuto tantissimi problemi di fortuna nell'arco della stagione, questo va detto, però quando hanno perso Laporte, secondo me lì è cambiato tutto, perché in attacco si rompe Marez, non c'è problema, si rompe Sané, non c'è problema, si rompe Aguero, sono abbastanza a posto. A centrocampo stessa cosa, ma con la difesa, con un giocatore come Laporte tra l'altro, che è fortissimo, quando poi lo rimpiazza John Stones, lo rimpiazza Otamendi, non è proprio la stessa cosa, è Laporte per me, per quello che lui dà, soprattutto poi allo stile di gioco di Pep Guardiola, è perfetto. È un giocatore incredibile, io lo stimo ormai da tanti anni, nonostante, ripeto, giochi in un club che io non sopporto, è un giocatore che quando lo vedo in campo, cioè, capisco il livello di questo giocatore. Quindi per quanto Laporte magari non sia proprio lo stesso identico livello di Van Dijk, perché Van Dijk è veramente di un livello superiore praticamente a chiunque, Laporte rimane, secondo me, un giocatore importantissimo per la propria squadra, soprattutto, ripeto, per lo stile di gioco che implementa il Man City con Pep Guardiola, quindi è un giocatore molto, molto importante. Andando a parlare del terzino destro, abbiamo Aaron Wan-Bissaka, che è un giocatore sia di prospettiva che proprio per il presente. È un giocatore che, da quando ha giocato con Crystal Palace, quindi dall'anno scorso in cui è esploso proprio sul palcoscenico nazionale, adesso anche a livello internazionale, giocando nel Manchester, è sicuramente un giocatore con una prospettiva futura immensa, però anche, ripeto, nel presente è un giocatore che, secondo me, ha già mostrato di essere uno dei migliori al mondo, se non il migliore al mondo. Io, personalmente, l'ho ripeto giocare come terzino destro difensivo migliore al mondo, perché non vedo grossissime alternative. In campionato, ovviamente, c'è Alexander Arnold, che però, difensivamente parlando, non è forte. Possiamo dire che in attacco è uno dei migliori terzini al mondo, e forse addirittura uno dei migliori terzini di sempre, perché fa una quantità di assist veramente impressionante, e i suoi cross sono devastanti, le sue punizioni sono devastanti, e proprio la sua capacità di avanzare sempre, ad essere sempre in un pericolo, è devastante. Però, come difensore, a me non fa impazzire. E questo ci può, questo qua, questo, insomma, è una questione di gusti qui, perché magari a me piacciono di più i terzini che difendono, ma nel calcio moderno molte persone possono anche dire che il compito del terzino destro non è tanto, o anche sinistro ovviamente, non è tanto difendere quanto essere una minaccia ulteriore, offensivamente parlando. Quindi ci può anche stare, dipende un po' dai gusti, però secondo me Wan-Bissaka assolutamente ha mostrato, con la sua tecnica difensiva, con il suo senso del posizionamento, ha mostrato di essere un grandissimo terzino destro, e per me il migliore del campionato. Andiamo adesso a parlare del centrocampo. Io, ripeto, lo dispongo con un centrocampo a tre, con un mediano, un centrocampista più box-to-box e un trequartista, e poi un attacco ovviamente con la punta e le due ali. Per me il mediano deve essere sempre un golo cantè, un giocatore che da quando è esploso con l'Ester, nella famosissima stagione del miracolo proprio compiuto da Claudio Ranieri e del suo l'Ester, con ovviamente come faccia Jamie Vardy, Ingole Cantè e Riyad Marez. Non si può assolutamente dire che Cantè in alcun modo ha avuto un calo. Magari il Chelsea ha avuto un calo, ma quello che ha fatto con il Leicester rimane una cosa storica. Quello che ha fatto con la Francia, essendo uno dei migliori giocatori di quella Francia, che ha vinto il Mondiale proprio distruggendo tutti quelli che erano davanti, va notato assolutamente. E poi, anche nell'anno di Sarri come allenatore del Chelsea, è stato un centrocampista difensivo proprio di qualità incredibile. Poi, l'unica cosa che si può dire è che magari lui, a differenza di MacAlele, perché comunque è il giocatore a cui viene paragonato di più, MacAlele magari tecnicamente era messo meglio. Però Cantè, come proprio difensore, come intelligenza, come grinta, non lo metto dietro a nessuno, a parte Roy Keane, che per me rimane comunque il simbolo del Manchesterista Alex Ferguson negli anni 90, anche inizio 2000. È un giocatore simbolo, perché a differenza di Cantè, aveva un carattere che andava oltre la faccia della terra. Cioè era un giocatore di tale spessore che veramente sembrava un Ferguson in campo. Quindi la differenza, secondo me, è quella più che era più tecnico. Però Cantè rimane un giocatore che secondo me è unico al mondo in questo momento. Non ci sono altri mediani che fanno il suo lavoro con la sua intensità. Casimiro è un grandissimo giocatore, però è più fisico. Casimiro direi è più che altro un spezzatore di ritmo, mentre Cantè è proprio un devastatore di ritmo. Quindi per me Cantè rimane il miglior mediano al mondo e ovviamente del campionato. Un altro centrocampista che rispetto tantissimo questo periodo che appunto si va a inserire in questa squadra è Rodri. Giocatore che appena l'ha firmato il City, io ho detto cazzo, cioè un altro campione in quel centrocampo. Perché non bastavano Fernandinho, non bastavano De Bruyne, non bastavano David Silva, non bastava tutta la squadra incredibile che avevano a livello di centrocampo. Dovano pure andare a prendersi Rodri. Un giocatore che con un buon fisico, con intelligenza tattica, con discreta velocità, buoni piedi, cioè un giocatore che sia in attacco che in difesa può dare un contributo eccellente alla squadra e può proprio dettare i ritmi di una partita. È un giocatore che in questa squadra poi eventualmente se giocasse veramente in campo sarebbe fondamentale, perché Cantè farebbe il lavoro sporco. Lui, diciamo, farebbe il lavoro intermediale, sì, tra centrocampo e proprio difesa e cose così, perché è uno che può avanzare su ogni fronte del campo. E poi ci sarebbe De Bruyne a fare il suo lavoro. Ovviamente vi ho appena spoilerato chi ci sarà, ma non è uno spoiler perché si sapeva già. Ma Rodri, secondo me, è un giocatore che può dare tantissimo al Man City. E se dovessero mantenere questa squadra, nonostante i problemi con la UEFA, che comunque essendo un'associazione così corrompibile la UEFA è anche totalmente plausibile che il City finisca di nuovo in Champions l'anno prossimo, comunque sia. La squadra c'è e Rodri potrebbe essere un punto di riferimento per la squadra, ma nel caso dovessero mandare via un po' di campioni, che ovviamente non avendo la Champions, molti di questi vorranno sicuramente andare via. Parlando del trequartista, abbiamo Kevin De Bruyne, un giocatore che secondo me non ha uguali a livello di contributo offensivo da trequartista, perché con i suoi passaggi, che siano da due metri, che siano da venti metri, non cambia niente, la sua precisione è sempre la stessa. È devastante con i suoi inserimenti, i suoi tiri, che sia su punizione o giocativo, è praticamente ineguagliabile, cioè è un giocatore incredibile. Poi è uno che io simpatizzo da tanti anni, da ben prima di andare al Chelsea, ero già uno che prendevo spesso a FIFA, lo facevo crescere facendo diventare una bestia. È un giocatore, secondo me, totalmente completo, non ha punti deboli, perché poi anche dal punto di vista difensivo sa dare un buon contributo. Poi stiamo parlando di una squadra che pressa moltissimo, non quanto il Liverpool magari, però fa un pressing molto avanzato, e De Bruyne è uno dei giocatori migliori proprio in questo, perché uno non si stanca mai e due, come magari Robertson, come tanti altri giocatori, mette una grinta veramente impressionante. Ce la mette tutta in ogni singola partita, e De Bruyne, con la sua eleganza, la sua tecnica, ma anche il suo carattere, secondo me, in questa squadra ci deve essere. Parlando adesso delle ali, abbiamo i due del Liverpool, perché non ci può essere nessun altro. Rashford stava facendo un grandissimo campionato, era al passo con i migliori bomber del campionato, nonostante stesse giocando quasi prevalentemente dalla sinistra, però poi si è rotto, ha perso ormai gran parte la stagione, poi ancora si può recuperare, adesso è tornato in forma proprio per la ripresa del campionato, quindi chissà, magari può esplodere ancora di più, però va messo assolutamente a sinistra Sadio Mané, che è un giocatore che, come De Bruyne, io ho preso come punto di riferimento in FIFA, ad esempio, da tanti anni. È un giocatore fortissimo ai tempi del Southampton, era uno dei miei pupilli per eccellenza, un giocatore che può giocare su tutto il fronte d'attacco, perché è fisico, è veloce, è intelligente, l'unica cosa che gli manca un po' è la finalizzazione, perché spesso si sbaglia dei gol veramente clamorosi, però è un giocatore di livello altissimo, ripeto, fisico, molto veloce, e molto molto utile dal punto di vista tattico, perché poi a lui lo stesso, la fase difensiva, non dico che la faccia bene, però ci prova, ci mette tutta la grinta, quindi è un giocatore che anche su quel punto di vista va assolutamente menzionato, e poi anche dal punto di vista umanitario, sembra proprio una persona molto buona, perché lui dice sempre, non ho bisogno di questi, cioè non ho bisogno di comprarmi sempre l'ultimo iPhone, per farti un esempio stupido, non ho bisogno di comprarmi chissà cosa, quindi dona molti soldi ai poveri nel Senegal, quindi è un giocatore, proprio anche dal punto di vista umanitario, molto, molto positivo, per la sua squadra, e per in generale il mondo del calcio, e il mondo in generale, quindi tantissimo rispetto per Sadio Mané, andando a parlare dell'altro ala del Liverpool, abbiamo ovviamente Salah, che secondo me non è forte quanto Mané, perché Mané secondo me è proprio devastante, Salah è devastante solo ed esclusivamente in questo sistema, perché quando abbiamo visto nella Roma, sì era buono, ma non era nulla di straordinario, anche se con la Roma comunque lo stesso, non era nulla di straordinario, alla Fiorentina, molto buono, ma niente di che, però stiamo venendo sempre dalla Fiorentina, e quando ha giocato al Chelsea, ha beccato a Mourinho, che non gli ha mai dato spazi, però quando ha giocato Salah, non mi ha mai impressionato, anzi, mi ha sempre fatto anche abbastanza ridere, quindi è un giocatore che per quanto stia dando tantissimo a Liverpool, secondo me rimane inferiore a Mané, perché Mané lo faceva anche a Southampton, mentre Salah, a parte questo sistema, per me personalmente, non lo vedo come un campione assoluto, però per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta continuando a fare, anche quest'anno va assolutamente inserito in questa cosa, sarei proprio fesso a non mettercelo, magari non è forte quanto pensano gli altri, secondo me, però, è sicuramente un grandissimo giocatore, con quel sinistro, con quella velocità, in questo sistema, è praticamente il giocatore perfetto per Jurgen Klopp, e adesso andiamo a parlare della punta, perché qua ci sono tre punte, che secondo me meriterebbero assolutamente di essere presi benissimo in considerazione, abbiamo Henry Kane, ovviamente del Tottenham, abbiamo Sergio Aguero, del Man City, e abbiamo, ovviamente, Jamie Vardy, del Leicester, Jamie Vardy forse è quello che, sta forse superando, le aspettative, e mi spiego, Kane, è un giocatore che ormai da tanti anni sappiamo sia un bomber incredibile, è una pace d'aria, però gioca in una grande squadra, Aguero gioca in una delle squadre migliori d'Europa, quest'anno hanno avuto un po' di difficoltà per infortuni così, ma non confondiamoci le idee, il City rimane una squadra incredibile, ok? Quindi gioca in un sistema perfetto, Vardy gioca in una squadra che sta facendo un campionato assurdo, ok? Probabilmente se ci fossero le squadre che c'erano l'anno che hanno vinto il campionato, sarebbe la seconda volta che il Leicester vince il campionato, però ha beccato un Liverpool impressionante, quindi ci sta anche non riuscire a vincere, ma con gli individui che ha il Leicester, quello che sta facendo è comunque straordinario, veramente veramente straordinario, e Jamie Vardy rimane la faccia secondo me di questo, perché con il suo carattere, perché magari non è una persona splendida, mettiamola così, però è comunque un personaggio carismatico, che quindi attira anche il pubblico, è un giocatore molto importante per il Leicester a livello mediatico, ma in campo è un giocatore straordinario, sta facendo comunque un casino di gol, con la sua velocità, la sua tecnica, tutto, è un giocatore molto molto buono, quindi questo mi fa pensare che magari possa essere lui, però Kane è un bomber assurdo, la differenza tra Kane e gli altri attaccanti del mondo secondo me, è che lui è un po' un ritorno al passato, è un giocatore simile a Shearer, nel senso che è un rapace d'aria fisicamente potente, di testa è devastante, ma non è che sia proprio uno che partecipa più di tanto al gioco, quindi Vardy partecipa un po' di più, ma quello che secondo me è l'attaccante più forte della Premier League, ed è quello che partecipa anche di più al gioco, ed è quello più importante per la sua squadra, è Sergio Aguero, secondo me Aguero è un giocatore che veramente è generazionale, mi spiego, potrebbe anche raggiungere ancora il record di Shearer, secondo me non lo farà, però può ancora farlo, essere nel discorso tra Runei, Shearer e Aguero ad essere uno dei più grandi bomber della storia della Premier League è veramente una cosa incredibile, perché lui ancora può dare tantissimo per la sua carriera, l'unico problema che ha Aguero è che spesso si rompe, e spesso si rompe per un bel po' di tempo, quindi capita nell'arco di ogni stagione praticamente di saltare, fai quei due mesi, addirittura forse anche tre a volte, quindi gli capitano questi momenti in cui non riesce a dare proprio il massimo, però è un giocatore che quando è in campo è totalmente immarcabile, è basso, quindi ha il bar di centro basso, però è fisicamente potente, è tatticamente incredibilmente intelligente, si inserisce come nessun altro, poi ha una precisione devastante, è un giocatore che io personalmente prendo da Football Manager 2005, e diventava sempre il punto di riferimento del mio Manchester, o del mio Cagliari, a seconda di chi prendevo o del mio Real Madrid, a seconda della squadra che prendevo, lui comunque doveva esserci sempre, perché era così forte, ed è infatti diventato un super giocatore, uno dei migliori al mondo, e secondo me se giocasse nel Real Madrid o nel Barcellona, sarebbe sicuramente un candidato importante per il pallone d'oro, a parte magari gli infortuni che purtroppo gli capitano molto spesso, quindi secondo me Aguero è un giocatore totalmente unico, è un calciatore incredibile, ed è uno che per forza va messo in questa squadra, quindi spero vi sia piaciuta la squadra, però aspetto nei commenti anche le battoste mentali, perché sicuramente ci saranno diversi giocatori su cui non siete d'accordo, che magari secondo voi avrei potuto mettere, ad esempio magari un James Madison, che lo stesso faccio facendo un campionato incredibile, avrei potuto magari metterlo al posto di De Bruyne, che ha saltato per un po' di infortuni, però secondo me De Bruyne andava messo per forza, quindi fatemi sapere voi cosa pensate nei commenti, e per favore vi chiedo un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, e di cliccare sulla campanella di notifiche, e come al solito ragazzi ci vediamo nel prossimo video.